Stiamo presentando in fiera una produzione dedicata alla trasmissione lineare. Il prodotto è il settore storicamente di competenza di Romani Components che questa volta però ha la possibilità di aggiungere una competenza produttiva grazie all'acquisizione di LICAT avvenuta nel febbraio di quest'anno. Noi abbiamo quindi delle possibilità adesso di assistere il cliente fin dalle fasi iniziali della progettazione con un supporto che non è più soltanto finalizzato alla vendita di prodotti standard ma la possibilità di personalizzare questi prodotti standard o addirittura di concepire e sviluppare insieme al cliente delle soluzioni ad hoc su specifiche esigenze. È molto importante quindi questa fusione perché riusciamo a dare un'assistenza completa al cliente avendo per quanto riguarda la forza vendite una conoscenza e un know-how a livello produttivo molto approfondito e come produzione la possibilità di essere supportati da una forza vendite capillare in grado di intercettare quote di mercato che prima facevamo un pochino più difficoltà a servire e a soddisfare. Noi facciamo soluzioni su misura che non sono da costruire da zero quindi con degli time spesso incompatibili con le esigenze di rapidità da parte dei clienti ma godendo e beneficiando di prodotti disponibili a magazzino nel nostro magazzino di RAW che possiamo personalizzare in tempi molto rapidi godendo di questa realtà produttiva che è a disposizione per queste attività di service e di personalizzazione. I marchi rappresentati dal gruppo Romani Components sono SBC per quanto riguarda le guide lineare, YYC per quanto riguarda pignoni cremaliere, COFON per quanto riguarda i riduttori più tutte le attività complementari che consentono alla Romani di utilizzare l'ICAT come hub europeo per conto dei rappresentati per quanto attiene lo sviluppo e la messa a punto di servizi di sperimentazione e di prototipazione. Le nostre strategie di crescita sono quelle di diventare sempre meno dei fornitori e sempre più dei partner per i clienti ma questo non si può fare con una fidelizzazione basata esclusivamente sulle relazioni personali ma sulle capacità di dare risposte concrete. Questo ci permette quindi di avere una consapevolezza maggiore, di poter integrare le rispettive esperienze e di muoverci come gruppo riuscendo davvero a diventare un punto di riferimento per la clientela in modo tale da poter insieme cogliere queste sfide. Il mercato è complicato, le situazioni e circostanze non ci aiutano, la politica di solito ci ostacola, ecco tutto questo in qualche modo deve avere un contraltare di reattività che con questa fusione noi riteniamo possa avere un'attuazione concreta.